Si conferma per il nono anno l'appuntamento con Lucca Anziani, il salone dei prodotti e dei servizi per la terza e la quarta età. L'evento si svolgerà nella tradizionale cornice del Palazzo delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e aprirà i battenti venerdì 23 febbraio fino a domenica 25. Come ogni anno, Lucca Anziani offrirà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti, molti infatti gli specialisti del settore che saranno presenti. Grazie alla presenza di medici, esperti e macchinari all'avanguardia, i visitatori di Lucca Anziani potranno sottoporsi ad elettrocardiogramma, esami audiometrici, controllo della pressione oculare e molti altri. Ci sarà anche la possibilità di richiedere consulenze odontoiatriche, controllare la memoria attraverso test specifici ed effettuare ecografie per tiroide e per la orta addominale. Sì, qui abbiamo questo incontro annuale all'ultimo weekend di febbraio, in cui si unisce la parte scientifica fatta dai medici, dai geriatri, che vengono da tutta Italia, da tutte le università, non solo, ma qualcuno viene anche dall'estero, vengono anche dall'Inghilterra, alla parte invece che serve per la popolazione, quindi check-up gratuiti, elettrocardiogramma, le visite specialistiche e che gli anziani possono usufruire gratuitamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica presso la fondazione della Banca del Monte, Piazza del Duomo.